hey panda come state spero tutto bene io sono francesca e oggi vi porto nella mia morning routine iniziamo ho fatto colazione adesso sto aspettando che mia mamma esca dal bagno per lavarmi ok adesso che siamo riusciti ad entrare in bagno siccome i miei capelli sono puliti perché non ho la motoria li leggo anche se tengo per la seconda volta in una settimana per la seconda volta in una settimana tengo il mal d'orecchio lasciamo stare prendiamo uno spazzolino mannaggia il dentifricio che sappiamoci i denti adesso l'abbiamoci la faccia ok mi sono andata faccia oggi non sono che ho pensato prima e adesso mettiamo la crema crema ok adesso io l'ho già tolta la fascia la rimettiamo a posto e prendiamo lo spazzolino avevo sbagliato a registrare perciò adesso stavo andando a scegliere vestiti insieme a voi allora andiamo vicino al mio armadio allora questo è il mio armadio ci sono io allora qua ci sono tutte le cose sportive e leggere e no qua ci sono i vestiti una vestaglia che non è mia di mio cugino salutiamo mio cugino ciao qua ci sono le cose che uso io adesso perciò dire di prendere questi bellissimi cargo nero qua cargo blu per pensando che erano neri ma sono blu e mettendosi macciati con 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 allora metto questa maglietta bellissima ma ve la faccio vedere la prendo e ve la faccio vedere voilà sembrano neri no dal video però sono blu cioè non si nota molto non si nota molto la differenza e sotto metterò dei calzini alti perché devo mettere gli stivali perché sono le uniche scarpe che ho buono cioè tengo scarpe di genostica calzini e da prendere gli stivali e voilà ecco il mio outfit di oggi dare un bel sette e mezzo otto su dieci mi piace semplice ma carino adesso andiamo a mettere gioielli allora io c'ho tantissimi gioielli però non so mai quale mettere perciò vediamo quale posso però voglio farli arrivare qui ma dov'è mi fa che metterò questo perché me l'ha regalata la mia migliore amica giorgia ciao giorgia allora praticamente questo me l'ha regalata la comunione con c'è scritto a me l'ha regalata la comunione con c'è scritto amiche per la parola amiche per la vita perciò metterò questo che meno questo non mi dà fastidio anche quello del battesimo del che mi ha regalato mia nonna però non mi metto perché quello sta per molto ma perché mi dà fastidio perché va bene andiamo a vedere gioielli che ho fatto io allora sono arrivata a riparte a gioielli miei è un albero dei gioielli albero dei gioielli creato in montagna metterò questa collanina e questo braccialetto dove c'è Gesù e questa collana che avevo già messo però mi sono accorta che l'ho messa dal contrario c'è la F però l'ho messa dalla parte dove non c'è la F e mi vengono i nero ecco il gioielli che bello fatto sì fatto ok adesso vi faccio vedere il mio zaino e vi faccio vedere cosa mi porto per merenda ok adesso devo sistemare la mia borratta e anche in fretta perché sennò non arriverò mai ancora ecco allora come merenda io mi porto il tarallini e la salata mettiamo prima la borratta ecco e adesso sono pronta per andare a scuola sono rigorosamente notte 23 perciò devo pure andare perché all'otto e mezza devo entrare e io prima di andare a scuola vado in bagno e faccio una cosa allora mi ripetino i capelli ok metterò il gloss della Kiko ok ragazzi questa era la mia morning protein spero che vi sia piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao